buonasera è un piacere essere qui qualcuno può solo abbassare leggermente il volume? grazie sono passati un po' di mesi stavo vedendo più o meno 5 mesi quasi perché l'ultima volta che ero venuto qua era fine maggio poi sono andato in Brasile poi sono tornato che era a luglio poi metà luglio sono partito per il Tibet sono rimasto fuori fino a metà settembre oltre e sono fatto prima il viaggio in Tibet poi sono stato un altro mese in Cina accompagnare mia madre che ha dovuto fare delle cure mediche che eravamo lì e poi dopo sono arrivato ho fatto due settimane in Italia sono andato in Brasile e sono tornato qualche giorno fa e nel frattempo qua in mezzo a tutte le ristrutturazioni varie eccetera quindi sono passati questi 5 mesi insomma comunque stavo pensando prima uno che ovviamente mi fa molto piacere essere qua perché io qui al Kumpen e con voi ho avuto tantissimi momenti molto molto belli quindi la memoria è sempre di bei momenti l'altra cosa è anche il fatto che anche essendo passato tanto tempo relativamente 5 mesi insomma tanto poco dipende da dove guardiamo il fatto che quello che noi facciamo insieme qui è qualcosa che poi è presente nella nostra quotidianità nella mia e credo nella di molti di voi in parte sì è vero che da tanti mesi che non ci sediamo insieme qui però dall'altra parte siamo sempre insieme nel senso che siamo sempre seguendo lo stesso percorso insieme questa è un po' la sensazione che ho oggi volevo riprendere questo periodo un po' più lungo che abbiamo questa volta perché ci siamo qui oggi poi vabbè settimana prossima purtroppo non posso esserci perché sarò in Olanda però poi dopo rimango fino a fine febbraio quindi avremo un po' più di calma però in questo volevo riprendere con uno dei punti più fondamentali oggi che riguarda amare noi stessi perché la nostra base è il sentiero spirituale il sentiero spirituale inteso in quanto il percorso di crescita e sviluppo interiore delle nostre proprie qualità e questo per me è una delle cose più importanti che c'è in assoluto perché alla fine dei conti il tempo passa man mano che passano i giorni le settimane i mesi gli anni le cose succedono la vita va avanti e noi non sappiamo mai veramente che cosa succederà fatto sta che fra un giorno e un altro un mese e un altro un anno e un altro cosa succede veramente nessuno di noi può dire io adesso ho riflettuto fortemente su questo questa volta in Brasile un giorno sono andato a fare a parlare in un in un ospedale ospedale un grosso ospedale di San Paolo si chiama ospedale sirio-libanese e molto bello tutto eccetera però prima di parlare a questo gruppo principalmente di medici erano circa 500 persone lì sono andato a vedere alcuni pazienti che mi avevano chiamato per andare a vedere queste persone tutti in fase terminale e li vedi no perché sei a fianco a una persona una ragazza di 21 anni un altro di 41 che poi quello stesso giorno è venuto a mancare no un'altra signora un po' più già un po' più anziana però una cosa non vuol dire l'altra no e quello che stavo riflettendo una cosa che ci penso sempre però è venuto con più forza è il fatto che nella vita la cosa più importante non è la quantità del tempo ma sì la qualità se noi dobbiamo misurare il tempo quello che è importante nel tempo non è la quantità ma sì la qualità perché di solito una delle prime domande che io vedo fare quando qualcuno muore è quanti anni aveva io mi chiedo e cosa c'entra è un po' come per dire se aveva tanti anni vabbè dai più o meno vabbè dai tanto è così no non lamentiamo perché tanto aveva già la sua età se uno era più giovane ma peccato ma come perché di qua di là non rimane più male quando secondo me la domanda non è quanti anni aveva ma come ha vissuto la vita perché una persona che vive una vita molto lunga però vissuta male dispiace uno che ha una vita più breve però vissuta bene che bello quindi quando parliamo di tempo il modo per misurare il tempo non è la quantità ma sì la qualità anche quando stiamo insieme con qualcuno per dire andiamo a fare una vacanza con una persona che vogliamo bene cosa è più importante quanto tempo passiamo insieme o come viviamo quel tempo insieme certe volte passiamo un giorno una giornata insieme che ci rimane nelle nostre ricordi ed è una cosa che è bellissima fortissima e intensa altre volte possiamo passare due settimane insieme che quando finisce sembra che non sia successo nulla e non ci lascia niente perciò è molto importante ricordare che la cosa più importante quando parliamo di vita quindi il tempo è vita la vita è fatta di tempo fatta dei giorni questa è la sostanza di cui è fatta la nostra vita la cosa che il modo per misurare è la qualità e non la quantità però per avere qualità perché è interessante no prima di tutto per avere quantità cosa dobbiamo fare sperare nel futuro per avere tanta quantità di vita io devo sperare che abbia una lunga vita poi quindi è qualcosa che quasi come se non dipendessi da me cerco di prendere cura della salute eccetera però sembra che la vita deve essere lunga quindi devo guardare verso qualcos'altro per avere quantità per avere qualità invece dipende da ogni giorno la cosa importante quando stiamo insieme con qualcuno per esempio quando si parla di un'altra cosa classica che si vede quando due persone stanno insieme poi a un certo punto si lasciano o che stanno comunque insieme a tanto tempo sia da quanti anni siete insieme non è quello l'importante com'è che vivete insieme è più importante la qualità nel rapporto che la quantità del tempo può essere un rapporto che duri tre settimane e lascia un segno positivo forte può essere un rapporto che duri trent'anni ma che rimane a un livello molto superficiale ma questo sono tantissime cose quindi quello che accade questi due aspetti nella vita uno è la cosa importante nella vita non è la quantità ma si la qualità e la seconda cosa è ciò che importa principalmente non è cosa faccio ma si cosa divento dinanzi alle esperienze che ho alla fine della vita ma non solo la vita alla fine di questi cinque mesi che sono passati alla fine di un anno che è passato alla fine di un mese quel che sia di un'esperienza una vacanza un lavoro qualunque cosa che sia essa la domanda da farci non è che cosa ho fatto ma quella esperienza in che modo mi ha trasformato chi sono io oggi dopo aver vissuto quella esperienza in che modo mi sono trasformato chi sono diventato dinanzi a quello che ho vissuto più di che cosa ho fatto magari riesco a fare qualcosa che dal punto di vista materiale professionale va benissimo riesco a crescere nella mia carriera riesco a fare più soldi è andato bene guarda come sono riuscito a fare questo quello quell'altro che bello però sono diventato una persona più stressata ho creato diversi diverse ferite dentro di me non dormo bene questo quello quell'altro meglio meno come diceva c'era una frase che ho letto di Einstein che diceva adesso le parole precise non me le ricordo però era più o meno qualcosa del genere la ricetta per la felicità diceva una vita semplice e serena è quello che ti farà molto più felice che una vita nella costante ricerca del successo perché nel processo della ricerca del successo anche riuscendo ad ottenerlo ti porterà molta più sofferenza e molta più stanchezza eccetera eccetera che una semplice vita serena e soddisfatta e semplice perciò la domanda che io mi pongo è dinanzi alla vita la cosa più importante è cosa faccio o cosa divento perché le cose che noi facciamo finiscono facciamo qualcosa di bello di grandioso che bello e dopo di un po' cosa rimane? il ricordo le foto che ormai non si vedono più anche nella media uno va lì sembra che tutto ah che bello dopo di due giorni per me una cosa molto interessante di questo è stato vedere io quando sono stato l'ultima volta in Brasile a giugno sono andato in due programmi televisivi tra i due programmi di intervista più famosi in Brasile uno per il mattino per la parte più popolare e uno della sera per la parte più intellettuale della società diciamo così i due più importanti programmi di interviste no? e quello che succede è che alla fine cos'è? la gente si ricorda per un periodo breve e poi dopo finito la cosa bella è che comunque quello ha aperto le porte per tante persone per arrivare al centro eccetera però fatto sta che nei giorni d'oggi come sono fatte le cose anche di più di prima fai qualcosa anche l'immagine stessa costruisci un'immagine e la gente dice che bello questo fra un po' la gente sta già pensando a qualcos'altro è già finito quel momento si è già arrivato a qualcos'altro e la domanda principale è che cosa sono diventato io perché i momenti finiscono le cose che faccio finiscono però io continuo è un po' come se noi guardiamo la nostra memoria del passato le cose che noi abbiamo fatto i luoghi che siamo stati le situazioni che abbiamo vissuto le persone che abbiamo incontrato e le relazioni che abbiamo vissuto ci sono state e oggi ci sono ancora così come sono state no alcuni di loro hanno continuato altri no però quante cose non abbiamo vissuto che non ci sono più quante cose non abbiamo fatto che ormai sono finite è quello che rimane principalmente il ricordo però noi continuiamo la cosa che viene insieme con questo è che noi siamo oggi il risultato di tutto quello che abbiamo fatto e il modo in cui abbiamo vissuto ogni momento di quello per dire le ferite che andiamo a creare durante la vita di rancore di tristezza di rabbia atturi di rabbia rabbia eccetera eccetera ci li portiamo con noi dopo o no? spesso si invece dall'altra parte è lo stesso se noi impariamo a essere più pazienti apriamo più il nostro cuore abbiamo delle esperienze più profonde di amore eccetera questo anche li portiamo con noi o no? si e questa è la cosa più importante perché i momenti passano finiscono però noi continuiamo così come continuiamo in questa vita continuiamo anche dopo di questa vita e queste sono queste le cose che noi portiamo con noi perciò ricordarci che la cosa più importante non è la quantità della vita ma la qualità della vita e all'interno di questa qualità la domanda da farci non è che cosa ho fatto ma che chi mi sono chi sono tornato in che modo mi sono trasformato chi sono io oggi dinanzi a quello che ho vissuto è come per dire finisce un anno la domanda da porci non è che cosa ho fatto in questo anno è chi sono diventato chi ero io un anno prima e chi sono io oggi come mi piaccio di più come ero un anno fa o come sono oggi sono più equilibrato più soddisfatto un po' meno di rabbia un po' meno di invidia è una delle cose di cui mi sono un po' preoccupato sinceramente non è la prima volta che mi sono preoccupato di questo però questa volta in Brasile un giorno mia madre ha tutti i quaderni di quando andavo a scuola con tutte le come si dice no le relazioni degli insegnanti ma da quando avevo un anno e mezzo era una bellissima scuola dove andavo e c'era si vedi che gli insegnanti avevano tanto tempo perché erano lì e scrivevano lunghe pagine su come ero il bambino cosa faceva cosa non faceva veramente scritte benissimo poi e la cosa che sono rimasto un po' così che io non sono cambiato sono passati trent'anni e sono uguale quando ero bambino e come sono oggi riguardo quegli aspetti che io ritengo che sono più qualità aspetti più belli non è che li ho sviluppati negli ultimi dieci anni più o meno sono sempre stato così quindi io mi chiedo vabbè meno male che non ho peggiorato però mi pongo la domanda cosa sono stato a fare questi trent'anni no perché la realtà dei fatti è che se noi guardiamo ognuno di noi sono abbastanza sicuro di questo o abbiamo avuto delle esperienze così forti nella vita che ci hanno trasformato fortemente ci hanno modelato in un modo molto forte caso contrario per la maggioranza di noi se noi osserviamo le nostre memorie di come eravamo da bambini è cambiato molto o interiormente siamo più o meno gli stessi il nostro carattere il nostro modo di essere eccetera secondo me siamo più o meno gli stessi ovviamente ci sono degli aspetti diversi però ci sono alcune cose del nostro modo di essere che sono sempre lì questo che cosa ci fa vedere che quello che poi dopo si manifesta nel mondo si manifesta nel nostro modo di vivere la vita sono gli aspetti più profondi del nostro carattere del nostro essere che sono più difficili da trasformare che ci vuole più tempo e come credo io per fortuna ci riportiamo di vita in vita o dipende dipende di che cosa per fortuna o in altri casi il contrario però fatto sta che l'obiettivo principale che io mi pongo credo che è quello che abbiamo qua tramite gli insegnamenti di Buddha non è quello di fare cose grandiose ma è quello di gradualmente trasformarci per diventare profondamente non superficialmente un essere migliore non migliore agli occhi degli altri ma una persona con più equilibrio con più soddisfazione con più gioia più generosità più amore più compassione più stabilità questo è l'obiettivo principale che abbiamo e dinanzi a questo c'è uno dei primi passaggi che è fondamentale per noi che viene chiamato spesso come la rinuncia credo che tanti avete già sentito pausare questa parola la rinuncia che in tibetano si dice Nyejum Nyejum letteralmente vuol dire l'emersione definitiva l'emergere definitivo solo che suona strano in italiano sviluppare l'emersione definitiva o addirittura si potrebbe tradurre come l'emergenza definitiva peggio ancora ma il concetto è emergere uscire da qualcosa definitivo come certo quindi che cos'è questo sentimento è la certezza di poter uscire da uno stato di sofferenza però che viene tradotto in altre parole che mi piace molto di più come amare se stessi aver chiarezza di che cosa mi fa bene avere un obiettivo chiaro di chi voglio diventare e avere l'amore nel senso di avere la determinazione di abbandonare ciò che ci fa male e di coltivare ciò che ci fa bene poi nel percorso della vita man mano che cresciamo interiormente avremo speriamo più chiarezza per comprendere meglio che cosa ci fa bene e che cosa ci fa male però se noi riusciamo prima di tutto a sviluppare la semplice determinazione di abbandonare ciò che ci fa male e di coltivare ciò che ci fa bene è già un grande passo questo non è così ovvio io mi chiedo se c'è qualcuno qua che riesce a 100% di fare tutto quello che crede che gli fa bene e deve lasciare tutto quello che crede che gli fa male non è così semplice abbiamo delle cose che noi sappiamo che ci fanno male e comunque le facciamo più di una ci sono quelle cose che noi sappiamo che ci farebbero bene e comunque noi non le facciamo anche lì più di una perché una delle ragioni è che noi spesso crediamo che la soluzione sia più sofferente che il problema stesso perché non facciamo quella cosa che sappiamo che ci fa bene perché c'è un prezzo da pagare e non vogliamo pagarlo la fatica lo sforzo di cambiare un'abitudine che è una cosa faticosa sempre stato non è per niente che Milarepa chiama a sto discepolo alla fine della vita per dargli l'ultimo insegnamento per chi non conosce la storia Milarepa uno dei più importanti maestri del buddismo uno dei più importanti meditatori un maestro incredibile che ha avuto una vita molto difficile su tanti versi e comunque se qualcuno volesse leggere la sua vita esiste il libro in italiano proprio mi sa che è intitolato Milarepa che è molto bello è fatto una vita dura perché nella prima parte della vita veniva da una famiglia abbastanza ricca poi quando è morto suo padre che lui era molto giovane lo zio ha rubato tutti i soldi ha messo la madre lui come schiavi poi quindi ha accumulato tanta rabbia tanto rancore di questa storia poi appena è potuto è scappato perché quando è arrivato all'età di riprendere le cose indietro il zio non gli ha voluto ridare è tutta una storia lunga poi è andato a imparare la magia nera ha ucciso mezzo villaggio dopo poi si è pentito ha provato di uccidersi finché dopo una lunga storia è arrivato da questo maestro importantissimo chiamato Marpa che ha cominciato a estradarlo dopo un percorso abbastanza lungo di purificazione perché aveva ancora il peso di quella negatività di tutto quello che aveva fatto è andato a meditare ed era una persona veramente con una capacità abbastanza elevata ma una determinazione una forza di volontà molto forte e ha passato anni e anni e anni a meditare solo nella caverna dopo aver ricevuto tutte le istruzioni corrette eccetera è diventato verso la dopo verso più avanti non proprio la fine della vita però più avanti nella sua vita uno dei maestri di meditazione più importanti della storia del Tibet e si dice che poco prima che lui morisse si stava salutando da uno dei suoi principali discepoli che si chiamava Re Ciumpa ci abbiamo anche l'immagine di Milarepa da qualche parte qua adesso eccolo si vede di lì è uno che è seduto con la mano così col corpo un po' sull'azzurro verde in alto in alto dove c'è come il cielo lì ci sono i vari maestri c'è Milarepa lì c'è il corpo un po' verde perché mangiava solamente ortiche perché viveva nella caverna a meditare non c'aveva soldi per mangiare niente quindi mangiava solo le ortiche quindi diceva che aveva un aspetto un po' verde e per quello che viene rappresentato con quel colore lì comunque e c'ha la mano così perché lui cantava faceva i versi e faceva queste canzioni di poesia molto belle comunque succede che Milarepa verso la fine della sua vita si va a salutare con suo principale discepolo si chiamava Reciunpa un rapporto molto ravvicinato molto forte fra loro due Reciunpa doveva partire in un viaggio molto lungo perché a quell'epoca stiamo parlando di circa mille anni fa partire per un viaggio uno che non era sicuro due i tempi erano lunghissimi erano tre mesi di camminata per arrivarci stavi di almeno un anno e dopo tornavi altri tre mesi quindi un anno e mezzo andava per un viaggio di questo genere e loro due erano sicuri che non si sarebbero più ritrovati in quella vita perché Milarepa era già anziano e quindi non credevano di ritrovarci quindi dopo che si sono salutati a questo punto Milarepa dice a Reciunpa oh mio figlio non preoccuparti vai sicuro perché ti ho già dato tutto quello che tu hai bisogno per il tuo percorso per il tuo sentiero e non intendeva dire il sentiero fisico del viaggio intendeva dire il sentiero spirituale a questo punto Reciunpa lo saluta parte seguendo la tradizione di non dare le spalle al maestro quindi camminando indietro fino a non perderlo di vista per dopo girarsi e dare le spalle e arriva a un certo punto non lo so una ventina di metri quel che è e Milarepa chiama Reciunpa e dice oh mio figlio torni qua ho dimenticato di darti il più importante fra tutti gli insegnamenti Reciunpa torna qua aggiungo io perché nella storia non è detto avrà pensato Reciunpa meno male se è ricordato adesso no perché comunque torna Milarepa quindi gli dice viene perché devo darti il più importante fra tutti gli insegnamenti gli aveva insegnato il mezzo per l'illuminazione delle cose incredibili quando lui arriva vicino al maestro Milarepa si gira dalle spalle a lui si alza la gonna e gli fa vedere il sedere e la storia racconta che era un sedere brutto un sedere molto ruvido dice quasi come il sedere di una scimmia perché così tanti anni della sua vita seduto a meditare sulla pietra fredda perché non aveva neanche un cuscino era molto povero Milarepa quindi non aveva neanche i soldi per avere un cuscino quindi anni e anni seduto sulla pietra fredda gli ha lasciato i segni sul corpo quindi lui si rigira guarda Reciumpa e dice ricordati senza sforzo non c'è risultato sarà stato facile per Milarepa quegli anni a meditare dopo che ho ottenuto le realizzazioni sì prima no quindi quello che succede è che comunque non è mai stato facile per nessuno cambiare le proprie abitudini sviluppare un vero amore a Sangha uno dei grandi maestri anche di circa 1500 anni fa lui è stato 12 anni a meditare per sviluppare il grande amore adesso senza andare a raccontare tutta la storia della Sangha che è un po' lunga però ci sono tante storie di maestri che hanno messo tanto sforzo perciò la domanda è nella nostra vita per cambiare le nostre abitudini è difficile o no? sì ma è sempre stato creare delle nuove abitudini positive aprire il nostro cuore agli altri amare veramente in un modo più sincero non seguire la rabbia la gelosia l'invidia è facile? no e non è mai stato mai stato perciò abbandonare ciò che ci fa male e coltivare ciò che ci fa bene è facile? no è mai stato facile? no però la domanda principale è non abbandonare ciò che ci fa male non coltivare ciò che ci fa bene è facile? sì nel senso che non serve mettere sforzo però il risultato è facile? no perché non è che la nostra vita sia facile perché il risultato di continuare a coltivare ciò che ci fa male e di non fare ciò che ci fa bene prendiamo per esempio il corpo se continuiamo a mangiare quello che non ci fa bene a non fare gli esercizi a avere uno stile di vita malsano il risultato è piacevole? no però è facile perché non c'è bisogno di mettere lo sforzo per seguire una dieta sana non c'è bisogno di mettere lo sforzo per fare gli esercizi non c'è bisogno di cambiare lo stile di vita per andare a dormire più presto e svegliarsi più presto non c'è bisogno di fare tutto quello che in realtà sarebbe necessario però il punto è lo sforzo che noi andiamo a mettere per cambiare certe abitudini dopo viene ripagato con una qualità migliore di vita con quello che andiamo a diventare per questo che siamo partiti da dove? perché non facciamo quello che sappiamo che ci fa bene perché spesso pensiamo che il prezzo sia troppo alto quando vediamo che diventa così imponente perché non farlo diventa troppo costoso a quel punto lo facciamo io ho visto questo con alcune persone che conosco più di una che avevano per esempio un'attitudine molto aggressiva spesso come risultato della propria educazione una di queste persone tutte e due in realtà che mi viene in mente adesso però ci sono anche altre avevano avuto un'infanzia con molta violenza con i propri genitori o uno dei due genitori molto aggressivo quindi quindi che cosa succede un'impara che quello è il modo di rispondere di vivere la vita eccetera eccetera però in tutti e due casi avevano la consapevolezza della necessità di cambiare però sembrava uno sforzo troppo grosso fin quando le persone intorno a loro non hanno detto o cambi o ci allontaniamo o non ci sto più ma non per scherzo davvero e a questo punto cosa hanno fatto? hanno messo uno sforzo concreto reale per cambiare che non è stato facile però in gran parte l'hanno fatto e ho un grande rispetto per queste due persone che mi vengono a mente adesso perché hanno fatto uno sforzo enorme per andare contro un'abitudine forte che avevano già dall'infanzia però quando è stato che hanno messo questo sforzo quando hanno visto che rimanere in quel modo costava troppo quindi difficilmente noi andremo a mettere sforzo su qualcosa o dobbiamo capire l'importanza che quella cosa ha per noi profondamente o se no se quella cosa richiede uno sforzo richiede una fatica se non spesso ci sembra che sia troppo costoso è più il prezzo della fatica che il risultato di quello che andiamo a vivere è chiaro questo è un po' anche come per dire io adesso c'è un amico che ha smesso di fumare dopo che ha avuto problemi molto serie di salute e a questo punto da una parte era la famiglia quindi la moglie che ha detto o smetti di fumare o le sigarette o io uno dei due e la salute a questo punto facile no però ha scelto di smettere di fumare no quello che voglio dire è che noi funzioniamo in qualche modo sulla base di incentivi o no però esistono diversi tipi di incentivi esistono incentivi fisici materiali sociali e morali quindi noi possiamo creare con noi stessi gli incentivi morali questa cosa non fa bene devo essere diverso devo sviluppare queste qualità quel tipo di comportamento non è buono eccetera senza dover aspettare che ci siano degli incentivi molto più forti sociali sia delle persone intorno a noi fisici o economici e così via no per che cosa per semplicemente lasciar stare quelle cose che ci fanno male e coltivare quelle cose che ci fanno bene solo noi stessi sappiamo veramente quali sono però se noi ci guardiamo con sincerità ci sono quei comportamenti che noi sappiamo che in realtà sarebbe meglio non averli più sicuro la cosa importante qua è non cadere comunque nel senso di colpa perché non è che siamo cattivi perché abbiamo un certo comportamento siamo esseri nel samsara con ignoranza facciamo il nostro meglio all'interno della nostra ignoranza per cercare di essere felice tutto lì così come le altre e l'attitudine non è quella di incolparci per dire guarda come sono cattivo l'attitudine è quella di accoglierci e direzionarci perciò un esempio di qualcosa che è pratico che possiamo fare facciamo l'esempio con due sentimenti abbastanza forti che tutti abbiamo in due aspetti diversi uno è la parte più dell'avversione la rabbia l'altro è quello del desiderio ok quindi prendiamo per prima il desiderio se noi abbiamo un desiderio forte verso qualcosa qual è la nostra tendenza? lasciare il desiderio lì dov'è o agire fisicamente verbalmente per cercare di ottenere quello che vogliamo e di agire ci sono certi desideri che sono ottimi e molto positivi sono certi desideri che desideriamo delle situazioni delle stati interiori delle cose che possono veramente far del bene noi e agli altri quindi questo va bene la propria bodhicitta la mente delle illuminazioni uno degli stati interiori più importanti all'interno del buddhismo mahayana non è altro che un desiderio è desiderare svilupparsi spiritualmente per essere di beneficio agli altri quindi è un desiderio non è che il desiderio in se stesso è qualcosa di sbagliato però quando noi parliamo dei desideri materiali dei desideri dove vogliamo che il mondo sia così come secondo noi dovrebbe essere il desiderio relativo alle persone dove noi vogliamo che quella persona sia in questo modo vogliamo ottenere l'attrazione all'attenzione di quella persona o il desiderio o il desiderio nel quale noi vogliamo ottenere situazioni materiali di riconoscimento di piaceri eccetera eccetera qual è la tendenza ho un desiderio verso qualcosa ho sette voglio l'acqua metto la mia energia verso quello ok mentre ho il desiderio in generale la sensazione interna mentre abbiamo il desiderio è piacevole o è spiacevole secondo voi senza paura di dire la cosa sbagliata quello che succede è l'idea di ottenere l'oggetto di desiderio è piacevole la sensazione stessa del desiderio è spiacevole perché se no basterebbe avere il desiderio e non averlo mai però crea una sensazione interna di malessere io ho bisogno di quello finché non ho quello non posso rilassarmi ok anche per questo quando si riesce a ottenere l'oggetto il desiderio spesso un po' il suono ok sono riuscito mi posso rilassare sono riuscito a ottenere quello che io voglio però poi qua apro e chiudo un parentesi le cose che noi desideriamo di solito sono cose che noi abbiamo bisogno o sono semplicemente menate mentale che noi ci facciamo nella gran maggioranza dei casi sono menate mentale poi ci sono cose che uno veramente può aver bisogno ok il punto principale invece qual è quando io seguo il desiderio voglio qualcosa faccio di tutto per ottenere quella cosa riesco ad ottenerla quella sensazione di quella tensione creata dal desiderio si colma passa però subito dopo il desiderio cresce o rimane lì ormai soddisfatto c'è un'altra cosa e la tendenza del desiderio è di rimanere sempre con la stessa intensità o più io vado a soddisfare il desiderio più forte diventa di solito è più forte è un po' come la sensazione che io ho col desiderio è un po' come essere sottoricato qualcuno che viene e ci mette sottoricato guarda che se non fai quella cosa lì ti faccio del male ossia se non vai dietro quella cosa che vuoi tu ti faccio sentire male starai male mentalmente fisicamente eccetera poi quando siamo se qualcuno è messo sottoricato e va lì e effettivamente segue e fa quella cosa di solito quella è la tendenza essere messo sottoricato un'altra volta ancora e di solito per una cosa ancora più grossa e perdiamo totalmente la nostra libertà quindi che cosa succede più io do spazio al desiderio più spazio il desiderio prende nella mia vita credo che tanti di noi abbiamo già passato l'esperienza di ottenere qualcosa che sembrava impossibile e dopo di un po' quella cosa non bastare più è quasi come non dare più valore a quello che sembrava una cosa incredibile impossibile da ottenere magari alcune cose ci vuole più tempo altre cose meno tempo però dopo di un po' perde il valore il punto non è che sia sbagliato andare alla ricerca delle cose o mettere sforzo per ottenere qualcosa quello va bene il problema è che più spazio noi diamo al desiderio stesso più spazio il desiderio va a prendere nella nostra vita la domanda non è se io lo voglio o non lo voglio la domanda è quello che voglio mi fa bene o non mi fa bene se voglio qualcosa che fa bene ben venga se voglio qualcosa che non mi fa bene lo voglio semplicemente perché lo voglio lascia stare tanto noi in qualche modo siamo un po' come i bambini in un centro commerciale mamma voglio questo voglio questo voglio questo dopo di un po' non posso avere questo guarda che c'è quell'altro ah ok voglio quell'altro io mi ricordo una volta che è successo una cosa ero piccolino in Brasile una cosa semplice però io mi ricordo è stato un momento in cui ho capito qualcosa di importante per me quel momento è stato importante con mio padre avrei avuto nove anni dieci anni qualcosa del genere vado da mio padre e chiedo ah voglio comprare quella cosa lì non mi ricordo che cos'era dal giornalaio ah c'era qualcosa che volevo comprare che avevo visto il giorno prima quando tornavo dalla scuola che ci eravamo fermati lì e volevo comprarla non c'erano i soldi era sabato mio padre diceva bene mi dai soldi per quella cosa vado a piedi era vicino casa arrivo lì non c'era più quello che volevo a questo punto ero lì da solo avevo i soldi qualcosa volevo comprare no e quindi mi ricordo che ho comprato una palina una stupidata quelle paline trasparenti che saltano tantissimo ho comprato una palina di quella sono arrivato a casa contento con la palina mio padre mi guarda e dice e dov'è quella cosa che volevi comprare ah non c'era e cosa hai fatto ho comprato la palina perché per così no per comprare no e mi ricordo che lui mi disse le parole precise ovviamente non mi ricordo ma qualcosa del genere non è semplicemente perché vuoi qualcosa che deve comprarla deve prendere quello che veramente credi che ti fa bene o che ti serve e così via non deve semplicemente comprare solo per comprare no mi ricordo che quella volta ha fatto molto senso questa cosa e noi spesso passiamo semplicemente con la necessità dell'ottenere qualcosa di comprare una cosa puoi comprare un'altra puoi avere una cosa puoi avere un'altra perciò il mio punto è non c'è niente di sbagliato nel desiderare il problema è principalmente quando noi diventiamo schiavi del desiderio è chiara la differenza una cosa è quando non riesco più a controllare desiderare una cosa che non posso averla non riesco a trattenermi desidero qualcosa che è troppo faticoso eccetera comunque lo devo avere quindi uno degli esercizi è quello di quando vediamo che c'è un desiderio che sorge di qualcosa che in realtà non è di beneficio siamo attenti perché la nostra mente è furba riusciremo a trovare tutte le giustificative del perché quella cosa è importante però quando vediamo cominciando dalle cose piccole che non è importante lasciamolo stare il desiderio sorge ci dice qualcosa però noi non lo seguiamo che cosa vuol dire non seguire un sentimento non agire verbalmente fisicamente tramite quel sentimento lì la stessa cosa con la rabbia più seguiamo la rabbia più spazio diamo alla rabbia più spazio la rabbia che prende nella nostra vita più io reagisco con la rabbia perché può succedere no? che succede qualcosa che a noi non ci piace che secondo noi non dovrebbe essere così che è già successo troppe volte io per tante volte non ho detto niente e comunque ancora lì e ancora succede basta non ce la faccio più adesso devo farlo capire che così non va bene e cosa succede a un certo punto? viene fuori quella forza quell'energia e andiamo a ributtarla addosso a una persona qualcosa ossia andiamo a dare spazio a quel sentimento tramite le parole e tramite le azioni più noi diamo spazio a quel sentimento di aggressività con le parole e con le azioni più facilmente l'aggressività prenderà spazio nella nostra vita con le nostre parole e le nostre azioni non so se è chiaro questo concetto più io ho un sentimento di aggressività perché può succedere a tutti però io non gli do spazio lascio che venga piuttosto metto l'acqua la faccia in un bacino in una bacina d'acqua e grido nell'acqua però non mi lascio prendere da quel sentimento di rabbia per parlare e per agire in modo inconsapevole più debole diventa la rabbia piano piano ritorna con meno forza la prossima volta e piano piano diminuisce e qualcuno mi potrebbe dire ma è faticoso vivere così perché al contrario è facile no? questa mattina che stavo facendo la lezione ad Albagnano mi è venuto un pensiero no? che spesso noi abbiamo questa sensazione che questo momento della vita è difficile ah ma guarda come è adesso che la vita è difficile poi stop l'infanzia è facile non dalla perspettiva dell'adulto ma dalla perspettiva del bambino è facile l'infanzia c'è chi ha avuto un'infanzia più leggera che c'è avuto un'infanzia più pesante però sono tanti quelli che dicono l'infanzia ma è più ok? perciò l'infanzia facile non è crescere imparare come funziona il mondo cominciare a imparare se stessi l'adolescenza è facile no diventare adulti cominciare ad entrare nel mondo del lavoro cominciare i rapporti di coppia eccetera creare una famiglia mantenere la famiglia sia da parte della marito che della moglie o di uno che sia sposato meno e prendere cura e vivere in questo mondo è facile? no andare in pensione essere un pensionato è facile? no morire è facile? no nascere? neanche perciò alla fine dei conti quello che se noi guardiamo sembra che questo momento della vita è il più difficile ma ditemi voi quale sia stato facile però posso sembrare strano però questo mi dà leggerezza perché mi porta al fatto che perché sono difficili questi momenti per alcuni più difficili per altri meno difficili per il nostro stato interiore che cosa fa difficile a certi momenti della vita? le nostre paure l'invidia l'attaccamento la rabbia se noi andiamo a vedere in ognuno dei momenti della vita che abbiamo appena citato e le difficoltà che abbiamo vissuto girano intorno sempre alle stesse cose perciò come diceva Tritian Rinpoche Chiavce Tritian Dorje Chan la vita precedente di Tritian Rinpoche d'oggi il maestro di Lama Ganci diceva nella vita la sofferenza fa parte che sia in un modo che sia in un altro meglio soffrire per qualcosa che porta dei buoni risultati che soffrire per delle cose che non portano nessun risultato è un po' come per dire io per fortuna mia non l'ho mai dovuto fare però io c'ho degli amici che hanno dovuto fare la fisioterapia dopo aver fatto l'intervento al ginocchio e di quello che mi hanno raccontato è una tortura perché prima la gamba pochi gradi poi piano piano per riuscire a piegare veramente un dolore fallucinante ogni millimetro che uno riesce a fare però alla fine è una sofferenza che porta dei risultati per quello in qualche modo benvenga e ho capito un'altra cosa in quest'ultimo periodo che lo voglio usare un po' come metafora per spiegare quello che stiamo facendo adesso che è il fatto quando noi ci svegliamo al mattino abbiamo una certa quantità di energia abbiamo una giornata piena di lavoro piena di cose da fare abbiamo tante cose da fare arriviamo alla fine della giornata siamo stanchi dobbiamo riposarci giorno dopo quando sia ci svegliamo al mattino abbiamo la stessa quantità di energia non facciamo niente tutto il giorno rimaniamo qui senza sapere bene cosa fare leggiamo qualcosa guardiamo un po' in internet siamo lì senza fare niente tutto il giorno alla fine della giornata siamo stanchi uguale o se abbiamo la stessa energia del mattino siamo stanchi sembra una cosa stupida però in realtà è molto interessante vedere che quello che ci stanca non è quello che facciamo è il fatto che consumiamo l'energia che abbiamo naturalmente non importa quello che facciamo ci svegliamo al mattino abbiamo una certa quantità di energia alla fine della giornata quell'energia è finita indipendentemente di quello che abbiamo fatto o di quello che non abbiamo fatto certe volte hai sono stanco perché ho fatto troppo ma tanto quando non fai niente sei stanco uguale o no poi ovviamente dipendendo del tipo di lavoro o no c'ha più stanchezza fisica in un posto piuttosto che nell'altro ma anche cercate di non fare niente tutto il giorno se dopo non fa male da qualche parte comunque perciò anche qua qual è il punto? non è il problema non è stancharsi il problema è come uso la mia energia durante il giorno che cosa mi vado a portare a casa alla fine della giornata con quell'energia che ho usato quindi quello che volevo dire con questo è usando questo come metafora che volendo non volendo comunque uno si stanca quindi meglio usare meglio stancarsi per qualcosa di positivo che per qualcosa che non porti nessun risultato particolare volendo non volendo nella vita si fatica e ci sono le difficoltà meglio faticare per delle cose che portano dei buoni risultati che faticarebbero delle cose che non portano niente che rimangono lì fra di loro non so se è chiaro come concetto se torniamo a Milarepa non è che Milarepa sia stata facile la sua vita però è riuscito a eliminare la sua ignoranza la rabbia la gelosia l'invidia è riuscito a uscire dal ciclo di sofferenza totalmente a sviluppare una saggezza incredibile un amore un'equanimità una capacità di controllo della mente del corpo spaventosa quindi non è che ha fatto questo senza fatica quindi è come una volta che parlavo con una ragazza tanti tanti anni fa in Brasile che è venuto a chiedermi dei consigli e a un certo punto era una cosa abbastanza semplice ho trovato una soluzione ho detto guarda perché non fai così e mi disse eh ma questo è difficile ho cercato ho pensato ho trovato un'altra soluzione ho detto perché non fai questo qua ah ma questo è difficile e non mi piace no no è contrario la seconda volta ho detto ma questo non mi piace ho pensato di più di più di più ho trovato una terza soluzione ho detto fai questa cosa qua che ti aiuterà ti risolverà questo problema ah ma questo è difficile e non mi piace senti una cosa o rimane dove sei o fai uno sforzo per cambiare no perché è difficile e non mi piace non sono scuse non voglio ok accetto ognuno è libero di fare quello che vuole non è libero dalle conseguenze delle proprie azioni per dire noi siamo liberi di andare contro la legge o no? sì però siamo liberi dalle conseguenze? no io posso fare qualcosa che sia contro la legge però dopo devo pagare il prezzo no? nella vita è uguale siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo però non siamo liberi dai risultati delle nostre azioni dalle conseguenze delle nostre azioni però il punto qua è è difficile non mi piace non importa no? io mi ricordo una volta parlando con un amico era un momento un po' difficile di alcune cose sai certe volte è faticosa è difficile e lui mi disse però noi non viviamo la vita perché sia una vita facile viviamo la vita perché sia una vita significativa il nostro obiettivo non è avere la vita facile il nostro obiettivo è avere una vita significativa ed è vero questo perciò l'importante non è che le cose siano facili che uno stia necessariamente piacevole ma che invece stia usando questa risorsa preziosa che è la vita questo corpo l'energia che abbiamo ogni giorno le conoscenze che abbiamo i sentimenti per diventare qualcosa di migliore per aiutare le altre per crescere interiormente questo alla fine è il più importante io vedo noi in occidente abbiamo qui oggi delle risorse incredibili dal punto di vista del buddismo perché la gran maggioranza di noi siamo persone che abbiamo un buon livello di educazione quindi intellettualmente preparati cosa che prima in oriente non è che succedeva così per tutti quindi intellettualmente siamo abbastanza preparati abbiamo accesso alle informazioni o no come diceva il venerabile Sangassena della DAC lui diceva quando eravamo una volta Borobudur insieme guarda come siete fortunati io prima per andare a ricevere degli insegnamenti dovevo camminare delle settimane con le scarpe rotte in mezzo alla neve nella DAC per arrivare lì quando arrivavo per gli insegnamenti non sapevo neanche se sarei riuscito a riceverli o no poi dopo di un mese due mesi ad aspettare riuscivo a ricevere gli insegnamenti che vi vengono dati una volta sola poi devo tornare dei mesi camminando un'altra volta e così via voi oggi siete a casa totalmente confortevole potete invitare il lama a venire a casa vostra quando volete voi basta che accendete il computer invitatela per favore viene qui mettete l'indirizzo arriva potete scegliere che cosa volete che lui insegni alla vostra scelta vi sedete lì a ricevere le spiegazioni del dharma quando arriva un momento che non avete capito potete chiedere scusi maestro poi ripetere e lui torna indietro ripete quante volte volete questo diceva sangasena però il fatto è che oggi abbiamo accesso alle informazioni in un modo incredibile estremamente facile magari anche troppo facile essendo troppo facile ci toglie un po' magari il valore che diamo a quello se dovessimo camminare due mesi per ricevere un insegnamento daremo un valore diverso che accendere sul telefono e guardarlo piuttosto che sul computer però quello che succede è abbiamo tante cose molto positive quindi abbiamo una capacità intellettiva abbiamo una situazione materiale molto favorevole dove non ci manca niente materialmente tante persone per anni con il buddismo la fatica prima fatica è avere da mangiare poi dopo meditare abbiamo accesso alle informazioni di ogni tradizione diversa di ogni cosa eccetera dov'è il punto debole? non riusciamo spesso a faticare a dare costanza è facile sedere tutti i giorni per meditare? c'è un giorno che all'inizio che bello che c'è l'entusiasmo del principiante e comincio lì che bello meditare ho imparato lo voglio fare di qua di là comincio c'è un giorno che mi sveglio e non c'ho voglia cosa dovrei fare? meditare invece cosa facciamo noi? non c'ho voglia troviamo una scusa qualunque tanto abbiamo la libertà facciamo quello che vogliamo sì esattamente e cosa succede dopo di un po' che non diamo continuità e questo viene secondo me da due cose che sono due punti più della società moderna che secondo me sono un po' pericolosi che però noi vediamo come false felicità false cause di felicità noi vediamo come cause di felicità però secondo me sono false sono delle fregature è la legge del minimo sforzo e del massimo conforto abbiamo il concetto che meno devo sforzarmi più felice sarò più confortevole saranno le cose più felice sarò se noi guardiamo in giro abbiamo la tendenza anche l'uso della tecnologia è sempre verso che cosa dover faticare meno dover mettere meno energia per le cose e dall'altra parte anche avere tutto in un modo più confortevole però questo che cosa ci ha portato essere persone deboli che nella prima difficoltà molliamo il colpo anche perché abbiamo una quantità di possibilità enorme quindi assi non è questo è l'altro e non abbiamo quella forza di mantenere dinanzi alle difficoltà la costanza per me l'esempio di questo può essere un po' esagerato però a me mi ricorda sempre questo c'è un posto a San Paolo che quando vado dal centro di Dharma per andare a casa di mia madre dove spesso dormo si passa davanti a una palestra con tutta la parete in vetro dove vedi le persone lì che corrono da fermi e salgono le scale da fermi no? poi dopo vai in aeroporto e non vedi uno che sale la scala a piedi tutti nella scala mobile e sono sicuro che di quelli lì tantissimi vanno in palestra uno paga per camminare da fermo poi quando c'è da camminare non c'ha voglia paga per salire le scale poi quando c'è da salire le scale non c'ha voglia ma questo per dire uno che è la metafora dei tempi moderni che corriamo 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 e non sappiamo dove stiamo andando perché questo se prendiamo un po' quello che abbiamo detto all'inizio che la cosa più importante è cosa diventiamo e non quello che facciamo non lo so perché abbiamo quest'idea che la vita è significativa se facciamo tante cose se riempiamo la nostra giornata con 25 cose e siamo a correre fra una e l'altra quindi il punto c'è una bella vita la vita è significativa in qualche modo io mi sono accorto quando ero arrivato in Italia che in occidente non è per l'Italia ho visto che da altre parti è uguale dopo che vivevo in monastero in India quando sono venuto a vivere qui nel 2005 2006 qualcosa del genere a un certo punto mi sono accorto che io dicevo a tutti che non avevo tempo io ho visto che dire che uno ha tempo vuol dire che non sei importante chi sei tu non hai tempo a disposizione finché un giorno mi sono detto non è vero che non ho tempo il tempo il tempo ce l'ho però dipende dalla priorità che io ho a una cosa o a un'altra il tempo noi abbiamo per qualunque dipende dalla priorità che noi andiamo a dare per una cosa piuttosto che l'altra il tempo noi abbiamo io ho visto che questa cosa di mettersi in fretta di correre sempre diventa più un'abitudine che una necessità spesso e che si possono fare le cose con più calma è possibile fermarci darci il tempo per digerire certe cose darci il tempo per fermare e meditare per poter piuttosto che fare le cose spesso con una qualità molto migliore io mi ricordo un esempio per me di questo è quando per una volta mi sono messo a riflettere più sul mio bisnono che è stato un uomo che è riuscito a fare un piccolo imperio alla sua epoca cominciato da zero e è riuscito a fare un'azienda di 18.000 dipendenti una cosa enorme ma dove è cominciato tutto adesso senza stare a raccontare la storia del bisnono però lui era ingegnere è andato a fare la luna di miele negli Stati Uniti a New York e mentre una cosa e un'altra scapava ogni tanto per andare a vedere gli ascensori era l'inizio dei grossi palazzi è riuscito perché ha programmato le cose prima aveva preso il contratto di manutenzione dei frigoriferi non perché volevesi fare il contratto di manutenzione dei frigoriferi però sapeva che era la stessa azienda che faceva ascensori lui voleva arrivare agli ascensori poi dopo è riuscito in questo viaggio è andato è riuscito creando i contatti avere il contratto di manutenzione degli ascensori in Brasile dell'azienda americana che mi sa che era la Westin House comunque ed è in viaggio di ritorno dall'America in Brasile che era in nave due settimane aveva quel manuale di non so quante mille pagine di come era fatto un ascensore di tutta la manutenzione dell'ascensore perché lui non voleva stare a fare manutenzione lui voleva costruire gli ascensori però ha detto come faccio a sapere bisogna capire come funziona in queste due settimane è stato il tempo che lui ha avuto per elaborare quello che aveva fatto per riflettere per leggere tutto il manuale studiare tutto bene e programmare i prossimi passi dove lui ha aperto la prima fabbrica di ascensore dell'America Latina che lì è riuscito a crescere in un modo abbastanza grosso ma io mi chiedo se lui avesse preso l'aereo che in dieci ore era a San Paolo e che era già preso fra una cosa e un'altra che man mano che arrivava a San Paolo aveva già 20 problemi da risolvere una cosa di questo avrebbe mai fatto quello che ha fatto non si può dire però probabilmente no non è perché una volta si facevano le cose con più calma che si facevano meno cose questa nostra necessità di correre sempre non porta necessariamente dei risultati migliori anche perché andiamo sempre di più a un rapporto più superficiale con le cose e meno profondo quando le cose più profonde sono quelle che rimangono non quelle superficiali meglio poche cose profonde che tante superficiali in realtà dal mio punto di vista comunque tutto questo per dire che dedicare il tempo con calma è importante però è una delle grosse difficoltà che c'è per il buddismo oggi qua per noi buddismo intendo dire la filosofia la istituzione dico la pratica spirituale di ognuno di noi è la nostra costanza è la capacità tra virgolette di faticare dire ok mi siedo lì sarà difficile sì però non importa ah ma non fa male le gambe sì e quindi ah ma non non è faticoso memorizzare tutti i testi sì ah e non è faticoso studiare queste cose sì e non è faticoso mettersi a meditare per tante ore stare senza mangiare o questo o quell'altro sì e quindi ma sin da quando la vita non è faticosa se non per una cosa per un'altra perciò io mi scuso se sono un po' magari posso sembrare un po' pessimista ma non per niente al contrario sono molto ottimista quello che voglio dire è abbiamo un'energia a disposizione dobbiamo usarla bene senza farci troppe scuse ah no abbandonare quella brutta abitudine è faticoso non preoccuparti tanto la fatica andrà se non per questo o per qualcos'altro quindi è meglio farlo ah fare quell'altra cosa che è positiva anche quello è difficile ma sì ma se non sarà difficile per una cosa sarà difficile per un'altra non so se siete d'accordo con questo no però noi ogni tanto viviamo in questa aspettativa non so bene non so bene come descriverla però è come un'immagine idealizzata di una vita felice che non dipende da noi non so se è chiaro questo è come se no quando questa cosa sarà a posto quell'altra cambierà quello a quel punto sarò felice andrà tutto bene quindi questa immagine idealizzata di una vita felice che non dipende da noi stessi ma è mai esistito questo? non credo no? purtroppo anche nell'educazione che abbiamo ricevuto non parlo della scuola parlo della società parlo delle storie che abbiamo ascoltato da bambini e così via di solito la felicità viene dipinta viene rappresentata tramite uno stato interiore di soddisfazione equilibrio e saggezza o tramite condizioni esterne condizioni esterne e poi dopo per capire che la fregatura quindi non è così no? perciò noi abbiamo la grande fortuna la grande fortuna di essere qui insieme di avere questa consapevolezza che la felicità non va a dipendere da condizioni esterne ma si da condizioni interne che l'obiettivo principale nella vita non è cambiare il mondo ma cambiare il modo come noi ci relazioniamo con il mondo però una volta che abbiamo capito questo dobbiamo mettere l'energia in questa direzione che non è necessariamente semplice quello no non è mai stato però c'è un punto che voglio aggiungere che voglio solo sfiorare questo punto perché se no diventa troppo lungo ok? immaginiamo che abbiamo una luce molto potente o abbiamo una medicina molto potente questa luce dove va direzionata? dove c'è già la luce o dove c'è il buio? dove c'è il buio no? la luce dove c'è già la luce aumenta la luce che c'è già però non cambia molto la luce che riusciamo a sviluppare va direzionata verso dove c'è l'ombra dove c'è il buio la medicina per il quanto potente sia dove va usata? dove c'è la malattia ok? similmente a questo gli antidoti lo sviluppo della saggezza dell'amore dell'equilibrio e l'energia positiva che andiamo a generare eccetera eccetera dove va messa l'energia del sentiero spirituale lì dove c'è l'ombra però per poter fare questo c'è un passaggio che è importante non sempre facile ma neanche così difficile per alcune persone più difficile per altre meno che quello di riuscire a vedere le proprie ombre la difficoltà maggiore che vedo qui è di riuscire a vedere la propria ombra senza entrare in un senso di colpa nell'accoglierci ah ho quell'attitudine che non va bene ho quell'abitudine lì eh vedere dove è la debolezza è la mia ignoranza è il troppo attaccamento è nell'invidia è nell'arroganza dov'è che è il mio punto più debole e dove sono i miei punti più deboli dove sono le mie ombre perché quando io vedo questo che a questo punto posso fare qualcosa per cambiare certe volte un pericolo che esiste è quello di rimanere seguendo un percorso spirituale di trasformazione di cambiamento interiore di sviluppare di sviluppo delle nostre qualità eccetera però direzionato verso un'immagine idealizzata di noi stessi e nel quale noi non vediamo le nostre proprie ombre può succedere questo ah ah la compassione per tutti gli esseri è importantissima l'amore per tutti la pazienza eccetera eccetera poi dopo quando perdo la pazienza la colpa sono amica mia e degli altri no io amo tutti non amo quelli lì perché fanno questo e quell'altro no però amo tutti quindi è molto importante in realtà guardare verso di noi vedere dove sono i nostri punti deboli saper vedere le nostre proprie ombre perché quando noi vediamo le nostre ombre quando vediamo i nostri punti deboli che tutti noi abbiamo sono il primo a quel punto possiamo mettere energia per trasformare qualcosa a quel punto possiamo applicare la medicina lì dove c'è il veleno l'antidoto va applicato dove si trova il veleno dove c'è la malattia la luce va portata dove c'è il buio no quindi quando noi vediamo in noi stessi comportamenti attitudine abitudini profonde che non ci fanno bene che bello che possiamo vederli che bello perché questo mi permette di gradualmente un pochettino dopo l'altro mai da un giorno all'altro mettere l'energia per non seguire più quelle abitudini e invece mettere l'energia in un antidoto che mi aiuti a cambiare quell'attitudine lì e questo fa una grossa differenza nella vita poi dopo ok perché il fatto è che la vita si svolge oggi qui e da nessun'altra parte questo processo di abbandonare ciò che ci fa male di coltivare ciò che ci fa bene dove deve essere svolto ogni giorno poi la pratica buddista viene divisa in due tipi come praticare durante le sezioni di meditazione e come praticare fra le sessioni di meditazione ok originalmente questi insegnamenti sono stati dati in contesti in cui fra una sessione e l'altra durava intorno di due ore tre ore no la persona meditava quattro volte al giorno per circa due tre volte ogni volta nei nostri tempi qua quanto tempo dura il periodo fra una sessione e l'altra di meditazione una settimana un mesetto una giornata se ci va bene no perciò come noi viviamo fra una sessione e l'altra diventa ancora più importante che il modo in cui noi andiamo a relazionarci con gli altri come usiamo la nostra parola ricordandoci che la parola direziona la mente è lì che la vita si svolge io sinceramente non credo che sia necessario per nessuno diventare buddista ma di nessun'altra religione neanche necessariamente però io credo che sia necessario importante fondamentale accorgerci della nostra necessità di uno sviluppo interiore accorgerci di quali sono le attitudini interiori che ci fanno male e quali sono quelli che invece vanno coltivati e sviluppati e a usare e avere un metodo per poter fare questo percorso di abbandonare ciò che ci fa male e coltivare ciò che ci fa bene il buddismo è uno di questi metodi però questo è fondamentale per noi perché se no continuiamo a cercare di essere felici in un modo di qua in un altro di là e cambiando il mondo e cercandone e alla fine siamo sempre intorno alla stessa cosa l'ultima cosa prima di sederci a meditare un po' insieme è il fatto che se noi non applichiamo tutto ciò nella nostra quotidianità la vita passa in fretta e cosa succede? voglio meditare voglio imparare voglio fare voglio fare voglio fare alla fine durante la notte dormiamo e di solito dormiamo pensando a che cosa? al film che abbiamo visto prima di dormire alle quali sono le ultime cose che uno fa prima di dormire di solito sono cose che portano alla mente uno stato di pace di equilibrio di generazione generare amore generosità umiltà qualcosa del genere o di solito sono più verso gli oggetti di desiderio che sia tramite qualcosa che uno va a vedere il facebook della situazione che saranno altre cose un po' meglio da fare prima di dormire però che ricordiamoci che la direzione che la mente segue mentre dormiamo è la direzione che noi diamo agli ultimi pensieri mentre ci addormentiamo quindi cosa facciamo è importante credo che sia già successo a tutti di addormentarsi guardando un film e sognare con il contesto del film o no? questo già ci dice un po' tanto poi ci svediamo durante il giorno passiamo gran parte del nostro tempo distratti distratti da che cosa? dal nostro percorso spirituale perché passiamo buona parte del tempo prendendo cura delle cose materiali lavorando cercando di sostenere i rapporti umani nel miglior modo possibile cercando di prendere cura del nostro corpo tra il mangiare lavarsi esercizio quel che è andare portandoci da una parte a un'altra eccetera eccetera e alla fine quanto tempo di questa vita in una giornata riusciamo a dedicare per osservarci interiormente e direzionare le nostre azioni se non stiamo attenti poco se stiamo attenti molto perché lo possiamo fare ovunque lo possiamo fare mentre stiamo lavorando lo possiamo fare mentre stiamo studiando lo possiamo fare mentre stiamo a casa con la famiglia con i figli col marito con la moglie ovunque siamo e anche quando andiamo a dormire quindi per me il riassunto un po' di tutto quello che abbiamo visto oggi è possiamo scegliere se vivere la nostra vita come un semplice risultato delle situazioni che vanno succedendo durante la vita o se vogliamo vivere la vita in un modo consapevole scegliendo noi stessi la direzione che vogliamo prendere questa direzione prendiamo nella nostra quotidianità direzionando le nostre parole direzionando la nostra mente creando delle abitudini eliminando altre abitudini questo è quello che possiamo fare nella nostra quotidianità io non posso assicurare a nessuno una vita facile mai visto per nessuno come posso offrire a qualcuno qualcosa che non ho mai visto e che non credo che neanche sia possibile anche perché il nostro corpo gradualmente come va? la tendenza qual è? degenerare però il corpo porta sofferenza anche prima che cominci il percorso di degenerazione o no? sì quindi fa parte anche quello perciò il punto è ripetiamo fare una vita che portare nella nostra quotidianità un aspetto più di significato la nostra vita in che modo? facendo che le esperienze che noi viviamo ci aiutino a trasformarci gradualmente in una persona migliore migliore vuol dire una persona più stabile più gioiosa equilibrata soddisfatta pacifica saggia questo è quello che vogliamo al di là di tutto il resto ok adesso facciamo la pratica dell'autoguarigione insieme per la quale non mi metterò adesso a fare grande spiegazione perché se no questo è molto lungo e avremo altre occasioni in cui potremo fare una spiegazione migliore della pratica dell'autoguarigione però ci sediamo adesso un attimino con calma per chi può essere la prima volta o le prime volte non preoccupatevi troppo di capire tutto quello che sta succedendo e di dover seguire tutto perfettamente chi vuole può rimanere semplicemente in silenzio anche senza fare movimenti chi vuole può seguire insieme i movimenti può cantare mantra insieme come preferisce però cerchiamo prima di tutto di riportare la nostra attenzione sul momento presente ok cerchiamo di portare la nostra mente la nostra energia nell'adesso nel qui ora nel dove si trova il nostro corpo si dice tradizionalmente portare la mente lì dove si trova il corpo poi durante la pratica dell'autoguarigione principalmente per chi è all'inizio quando facciamo quando espiriamo e facciamo i gesti verso l'esterno immaginiamo di eliminare tutto ciò che ci fa male quindi rabbia gelosia invidia paura arroganza malattie tensioni rancore qualunque cosa negativa e quando inspiriamo riceviamo le benedizioni nella forma di luce un'ettere che vanno a revitalizzare le nostre qualità interne ok ci sediamo quindi in una posizione confortevole con la schiena dritta però non tese le spalle rilassate la bocca rilassate gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso osserviamo la nostra propria respirazione senza forzare osserviamo l'aria che entra e l'aria che esce ci rilassiamo nel momento presente gradualmente gradualmente lasciamo che il respiro diventi più profondo portando la respirazione a una respirazione addominale portando l'aria sotto l'ombelico inspiro e spi e spi visualizziamo il nostro corpo corpo come un corpo come un corpo di luce abbiamo un canale centrale due canali laterali e cinque principali punti di energia chiamati i cinque chakra nello spazio nello spazio nei suoi cinque e i suoi cinque chakra si trovano i cinque diani buddha ossia i suoi cinque chakra sono perfettamente equilibrati guru buddha e inseparabili di tutti gli esseri sacri e rappresenta per noi le nostre proprie qualità sviluppate al loro massimo potenziale chiediamo le benedizioni a guru buddha per sviluppare le nostre qualità ed eliminare ogni negatività dai cinque chakra di guru buddha si emanano raggi di luce di color bianco dal capo rosso dalla gola blu dal cuore giallo dall'ombelico e verde dal chakra segreto questi raggi di luce inettere si assorbono nei nostri rispettivi chakra purificando le nostre negatività revitalizzando le nostre qualità lo chosampo pa gyutra shi pa tu che tempe trin le yarno da pel ghe dro lor zampetze parche bhal de la mesha vlasul vade oma guru vajradara sumatimuni shasane karma utavardhanye shri padra var samanya sarva sede hum hum oma guru buddha sede 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 hum purificazione dei cinque elementi nei nostri cinque chakra purifichiamo l'elemento spazio al chakra del capo dando così la possibilità agli altri elementi di purificarsi purifichiamo il vento al chakra segreto il vento soffia purificando il fuoco all'ombelico il fuoco cresce purificando la terra al cuore la terra si scalda purificando l'acqua alla gola l'acqua si evapora andando verso il capo dove si condensa e scende come una pioggia di netare purificando il corpo e la mente ee-ya-ram-lam-bam shudeh 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 soha ee-ho shudeh shudeh soha ee-ham- OHI-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Weyààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà l'intero universo si dissolve in luce il luogo in cui ci troviamo si dissolve in luce il nostro corpo dall'alto al basso, dal basso all'alto, in direzione al cuore si dissolve in luce non c'è altro che un infinito vuoto luminoso vuoto di esistenza intrinseca, ossia interdipendente inseparabile da una profonda beatitudine, da una profonda gioia e io sono, noi siamo l'unione non duale di beatitudine e vacuità inspiro 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 in un istante dall'unione di beatitudine e vacuità sorge l'universo noi stessi seduti su un fior di loto con un cuscino di sole e di luna sorgiamo con un corpo di luce abbiamo un canale centrale due canali laterali cinque principali punti di energia chiamati cinque chakra bianco al capo rosso alla gola blu al cuore giallo all'ombelico e verde al chakra segreto davanti a noi si trova Guru Buddha i nostri cinque chakra sorgono i fior di loto rappresentando i nostri canali di energia perfettamente equilibrati al chakra segreto sorge un fior di loto verde di 32 pettoli all'ombelico un fior di loto giallo di 64 pettoli al cuore un fior di loto blu di 8 pettoli alla gola un fior di loto rosso di 16 pettoli e al capo sorge un fior di loto bianco con 32 pettoli pam le pe ma jangu pam le pe ma serpo pam le pe ma ngompo pam le pe ma marpo pam le pe ma carpo nei fior di loto sorgono le silabe seme l'essenza dell'energia dei cinque guaritori supremi rappresentando il nostro proprio potenziale di illuminazione le nostre qualità ad essere sviluppate al chakra del capo sorge la silaba seme OM bianca come un punto di luce bianco che vibra con il suono OM alla gola la A rossa al cuore la HUM blu all'ombelico la tram gialla e al chakra segreto sorge la silaba seme RI verde OM AHUM CHAM RI 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 le silabe seme si trasformano nei simboli dei cinque guaritori supremi rappresentando le nostre energie che si sviluppano le nostre qualità che si sviluppano al chakra segreto sorge un doppio vagera verde segnato dalla silaba RI all'ombelico un gioiello giallo segnato dalla tram al cuore un vagera blu segnato dalla HUM alla gola un fior di lotto rosso segnato dalla A e al capo una ruota del dharma bianca segnata dalla OM RILENAT SO DORCE CHANGUR RI TRAM LE NOR BU SER PO TRAM HUM LE DORCE NGOM PO HUM ALE PEMA MAR PO AH OM LECOR LO CAR PO OM I simboli si trasformano nei cinque guaritori supremi rappresentando le nostre qualità e la nostra energia sviluppata al loro massimo potenziale al chakra del capo sorge il supremo guaritore Guru Buddha Veirojana di color bianco con il mudra della saggezza alla gola Amitabha rosso con il mudra della concentrazione meditativa al cuore Akshobhya blu con il mudra della stabilità all'ombelico Radnasambhava giallo con il mudra della suprema generosità e al chakra segreto sorge il supremo guaritore Guru Buddha Amoghasidhi di color verde con il mudra della non paura OOM KOR LO NAN SE DORCE APE MA CHE DORCE HUN DORCE MI KYO DORCE TRAM NOR BU RIN CHUM DORCE RINATSO DORCE LAMATO YUN DORCE KIN LAMATO YUN DORCE KIN LAMATO YUN DORCE KIN AL CHAKRA SEGRETO con le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Amoghasidhi di color verde con il mudra della non paura purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra segreto nella forma di uccelli, garuda verdi, fumo nero ed esporcizia specialmente purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra segreto come la paura tutte le paure l'invidia la gelosia e tutte le malattie relazionate al chakra segreto le purifichiamo nella forma di uccelli, garuda, verdi fumo nero ed esporcizia riceviamo tutte le benedizioni la visione del supremo guaritore guru buddha mogha siti nella forma di luce nettare verde che riempie il nostro corpo e ci porta il potere di realizzazione la certezza in ogni azione il rigioire la felicità per la felicità degli altri la saggezza che tutto compie è l'aggregato puro dei fattori composizionali ossia la nostra personalità in uno stato puro om amogasidi hum 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 reattività relazionata al chakra dell'ombelico nella forma di cavalli ciali scuri fumo nero ed esporcizia specialmente purifichiamo l'arroganza senso di superiorità l'avarizia materiale spirituale emozionale e tutte le malattie relazionate al chakra dell'ombelico le purifichiamo quindi nella forma di cavalli ciali scuri fumo nero ed esporcizia riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Gurubudha Radna Sambhava nella forma di luce e netta reggiana che riempie il nostro corpo e ci porta l'umiltà la generosità di dare materialmente di dare amore di dare protezione di dare il dharma il sentiero spirituale la saggezza dell'equanimità e l'aggregato puro delle sensazioni o maratna sambhavahum 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 di color blu con il mudra della stabilità purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra del cuore nella forma di serpenti blu scure fumo nero ed esporcizia specialmente purifichiamo completamente la rabbia l'odio il rancore l'impazienza il nervosismo l'instabilità interiore la tristezza la depressione e tutte le malattie relazionate al chakra del cuore li purifichiamo nella forma di serpenti blu scure fumo nero ed esporcizia riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Gurubhuda Kshobhya nella forma di luce in ettari blu che riempie il nostro corpo e ci porta l'amore la compassione la pazienza la calma la stabilità interiore la gioia spontanea l'aggregato puro della coscienza e la saggezza del dharmadatto della natura pura della nostra mente om akshobhya humm 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 al chakra della gola con le benedizioni del supremo guaritore Gurubhuda Amitabha di color rosso con il mudra della concentrazione meditativa purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra della gola nella forma di galine rosse scure fumo nero ed esporcizia specialmente purifichiamo l'attaccamento illimitato il desiderio illimitato l'insoddisfazione la mancanza di concentrazione la parola violenta e tutte le malattie relazionate al chakra della gola li purifichiamo nella forma di galine rosse scure fumo nero ed esporcizi riceviamo riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Gurubhuda Amitabha nella forma di luce e nettare rossa che riempie il nostro corpo e ci porta la concentrazione la soddisfazione la parola sacra l'aggregato puro del discernimento e la saggezza del discernimento om amitabha om amitabha om amitabha om amitabha con le benedizioni del supremo guaritore Gurubhuda Feirociana di color bianco con il mudra della saggezza purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra del capo nella forma di maiali neri fumo nero ed esporcizi specialmente purifichiamo completamente la nostra ignoranza la chiusura mentale la mancanza di spazio interiore la visione erronea della realtà di noi stessi e degli altri e tutte le malattie relazionate al chakra del capo li purifichiamo nella forma di maiali neri fumo nero ed esporcizi riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Gurubhuda Feirociana nella forma di luce e nel terre bianco che riempie il nostro corpo e ci porta la saggezza l'infinito spazio interiore la corretta visione della realtà l'aggregato puro della forma e la saggezza chiara come uno specchio Om Aveyrocianahum Om Aveyrocianahum Om Aveyrocianahum Om Aveyrocianahum Om Aveyrocianahum In un istante sorgiamo con un corpo puro nel mudro dell'abbraccio rappresentando che nella perfetta unione di metodo e saggezza di amore e compassione e saggezza di beatitudine e vacuità questa perfetta unione non esistono più nemici metodo per equilibrare e sviluppare l'energia maschile del metodo e l'energia femminile della saggezza visualizziamo che l'energia maschile del metodo nella forma della bodhicitta bianca con energia bianca scende dal chakra del capo fino a raggiungere il chakra segreto successivamente l'energia femminile della saggezza nella forma della bodhicitta rossa un'energia rossa sale dal chakra segreto fino a raggiungere il chakra del capo successivamente le due energie si uniscono al capo alla gola al chakra segreto all'ombelico e alla fine si uniscono al cuore dove tutta l'energia accumulata si va ad assorbire in tutto il processo sperimentiamo una sensazione di beatitudine e vacuità purificando il corpo e la mente ad un livello sottile e molto sottile si uniscono al capo o mani pe me home 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 orte o mani pe me home orte O Mani Pemehu 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 O Mani Pemehu